Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do come sempre il benvenuto sul mio canale. Nella storia che vi racconterò oggi, il protagonista è purtroppo ancora una volta un povero bambino. Pare che ci siano questi esseri, che chiamarli umani sarebbe disprezzare il genere umano, che traggono piacere nel far soffrire fino all'inverosimile che è naturalmente più debole di loro, i bambini appunto. Esseri per cui l'unica vera condanna, secondo il mio personalissimo parere, sia quello della zappa e della vanga. Ti fornisco una zappa, una vanga, un sacchetto di semi perché non sono una bestia come te e ti esilio su un'isola deserta, spoglie e brulla. Se riesci a procurarti il cibo bene, altrimenti beserai con cime per le piante ed almeno avrai fatto qualcosa di positivo nella tua vita. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento e un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Il 25 novembre del 2015, una donna di nome Heather Jones chiamò la polizia per denunciare il fatto che suo marito Michael l'aveva appicchiata e aveva cercato di ucciderla sparandole. Gli agenti di polizia accorsi subito sul luogo, rimasero sconcertati e disgustati da quanto trovarono all'interno della casa o della coppia. C'erano fori di proiettile nelle pareti, il pavimento era ricoperto di veleno per topi, c'erano topi morti, siringhe e riviste per adulti sparsi ovunque. Ma la cosa più scioccante, davanti alla quale si trovarono gli agenti, fu la notizia che la famiglia non vedeva uno dei loro bambini, Adrian, da un po' di tempo, forse da mesi. Heather e Michael vivano con ben sette bambini, sei nati dalla loro relazione ed un altro di sette anni, Adrian appunto, figlio di Michael nato da un suo precedente matrimonio. La madre biologica del piccolo, una donna di nome Diana Pierce, che l'aveva cresciuto per i primi anni della sua vita, ne aveva perso la custodia legale nel 2012, quando il bambino era stato trovato solo in casa dai servizi sociali, dopo che lei si era allontanata per giorni. La nonna di Adrian, Judy Conway, avrebbe voluto occuparsi del bambino, ma lo Stato aveva preferito affidarlo alle cure amorevoli del padre. Oggi Judy si chiede come sarebbe stata la vita di Adrian se il bambino fosse stato affidato a lei. Adrian e i suoi fratelli seguivano le lezioni da casa, che in America è abbastanza comune, perciò dal momento che il bambino non frequentava la scuola, nessuno aveva potuto lanciare per lui un Amber Alert, un'allerta che viene emanata negli Stati Uniti e in Canada in caso di sospetto rapimento di un bambino. Il sistema apprende il nome dalla piccola Amber Hagerman, di cui vi parlerò prossimamente, una bambina di nove anni rapita in Texas nel 1996 e poi uccisa dal suo rapitore. Nessuno, oltre ai due coniugi, era quindi a conoscenza della sparizione del bambino e, di conseguenza, nessuno lo stava cercando. Trovando la casa in quella situazione disastrosa e soprattutto una volta presa la notizia della sparizione non denunciata del piccolo Adrian, gli altri sei bambini furono presi in custodia dei servizi sociali e Michael e Heather furono entrambi arrestati. E questa è la foto degli esseri in questione. Giudicate voi se Cesare Lombroso era uno scemo oppure un genio. Dopo l'arresto, Heather chiese alla sua padrona di casa e amica Jennifer Overs di salvare per lei alcune foto dei suoi figli dal suo account eCloud. E qui, come capirete anche voi, tocchiamo il top del top dell'idiozia. Jennifer fu felice di aiutarla, ma non avrebbe mai immaginato quale orrore avrebbe assistito dopo aver eseguito l'accesso all'account di Heather. Cliccando su un'immagine dopo l'altra, trovò centinaia di foto e video che mostravano le torture orribili ed inimmaginabili che erano state afflitte al piccolo Adrian. Jennifer Overs aveva affittato la casa a Michael Heather nel giugno del 2014 ed era stata a fare loro visita solo una volta durante il periodo in cui i Jones erano stati i suoi inquilini. Affermò in un secondo momento di aver pensato che fosse tutto a posto anche se aveva notato l'insolito numero di telecamere piazzate in casa. Una volta alla stazione di polizia, Michael e Heather furono interrogati separatamente su come avessero potuto perdere uno dei loro figli. Heather confessò subito alla polizia che il bambino in realtà era stato ucciso da Michael e che se avessero cercato intorno alla proprietà avrebbero trovato i suoi resti. Disse di essere assolutamente strane all'omicidio, anzi sostenne con forza di aver fatto di tutto per aiutare il bambino, ma a causa delle percosse subite da Michael, che l'aveva addirittura fatto saltare i due denti anteriori, alla fine si era arresa e non era riuscita a strapparlo dalle grinfie di suo marito. Ma le sue menzogne stavano per essere smascherate. Jennifer, che aveva scoperto le immagini dell'orrore del piccolo Adrian sull'account Cloud di Heather, si era diretta immediatamente verso la stazione di polizia e le aveva consegnate agli agenti. Le foto documentavano meticolosamente ciò che Adrian aveva subito non solo da Michael, ma anche e soprattutto dalla matrigna, ovvero Heather, e mostravano gli ultimi mesi della vita del povero bambino. La coppia diabolica si era divertita a monitorare ogni attortura inflitta attraverso delle telecamere di sorveglianza che aveva posizionato in ogni stanza della casa. Michael e Heather si prendevano cura degli altri sei figli, ma Adrian invece era diventato la valvola di sfogo della loro malvagità e del loro sadismo malato. Heather si riferiva a lui come il ragazzo, piuttosto che usare il suo nome di battesimo, in un contorto tentativo di disumanizzarlo e lo picchiava spesso fino a farlo sanguinare. Una volta aveva usato una scopa per picchiarlo in faccia più e più volte, con il risultato di causargli una lunga ferita sul viso. Mentre la ferita sanguinava, Heather aveva tirato fuori la macchina fotografica e aveva scattato alcune foto, sai, per immortalare la sua prodezza. Non era raro, inoltre, che Adrian fosse costretto a stare all'aperto nell'acqua gelata e stagnante di una specie di piscina fuori casa per lunghi periodi di tempo, a volte per l'intera notte e da solo è terrorizzato. C'è un video in cui si vede incatenato fuori in inverno, indossando solo il suo pigiama mentre trema e cerca di liberarsi. In un altro video il bambino cerca disperatamente di bere da una tazza, ma non ci riesce perché i suoi polsi sono stati ammanettati dietro la schiena. Ci sono foto di Adrian con dei taglieri di legno da cucina legati dietro la schiena in modo da non potersi piegare. Il di lui legato ad un asse da stiro con una benda sugli occhi legato in quella che viene chiamata posizione da stress, cioè quella posizione per cui il peso del corpo viene posizionato solo su uno o due punti causando molto dolore. Ci sono numerose immagini di Adrian in piedi nella doccia, sempre più magro fino a quando la sua minuscola figura è quasi scheletrica. La coppia desiderava documentare come il suo corpo si stesse consumando giorno dopo giorno. Michael aveva impostato un sistema di allarme sul frigorifero e nella dispensa di modo che se Adrian avesse cercato di procurarsi del cibo sarebbe scattato l'allarme e loro lo avrebbero punito ferocemente per aver tentato di mangiare. Ad Adrian era permesso di mangiare solo da una palla di cibo marcio infestato da vermi con le mani legate dietro la schiena. A volte la coppia lo portava fuori, gli ficcava una saponetta in bocca sapendo che non sarebbe stato in grado di sputarla e poi gli metteva del cibo davanti e se ne andava all'interno della casa lasciandola soffrire. A causa delle continue percosse le caviglie del povero bambino erano gonfie e infiammate. Infine la coppia aveva pensato un ultimo martirio. Trasformarono una delle loro docce in una cella chiusa da una parete di compensato. In una fotografia scattata da Heather si vede lei in posa davanti alla porta della prigione mentre si scatta un selfie. Adrian fu rinchiuso in quella cella per tutto l'ultimo periodo della sua vita. Una delle fotografie presenti sull'account Cloud di Heather mostra un primo piano delle labbra sanguinanti e tagliate di Adrian ferite causate secondo gli esperti che la analizzarono dal suo tentativo di masticare il compensato forse per cercare di scappare o forse addirittura per mangiarlo. Altre foto mostrarono dei segni di Taser sulla sua pelle. Potrei andare avanti a descrivere gli orrori che ha subito Adrian ma sono certo che quelle che vi ho esposto sono sufficienti a farvi capire quello che ha dovuto subire questo bambino innocente che da bambino sano alla fine della sua vita era quasi irriconoscibile. Ovviamente non posso condividere queste immagini perché molte di loro se non tutte sono semplicemente troppo angoscianti ed orribili. Dopo mesi di sofferenze il corpo di Adrian si arrese e lui morì di fame da solo nella sua cella nella doccia in un periodo non ben precisato tra il 18 settembre e il 4 ottobre del 2015. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i suoi due aguzzini avevano lasciato il suo corpo per ben due settimane e poi infastiditi dall'orrore nauseabondo che emanava avevano deciso di riservargli un ultimo oltraggio. Erano usciti a comprare dei maiali per un paio di settimane non avevano dato loro da mangiare per assicurarsi che fossero abbastanza affamati e poi avevano gettato il suo corpo ormai ridotto in realtà ad un minuscolo sacco di ossa nel loro recinto. Michael e Heather avevano programmato di trasferirsi nell'Oiuta dove avrebbero potuto iniziare una nuova vita dove nessuno li conosceva e nessuno avrebbe saputo che Adrian fosse mai esistito. Ora mi chiedo come è possibile che nessuno sapesse cosa stesse succedendo in quella casa perché nessuno soprattutto i servizi sociali non andavano a controllare se tutto andasse bene. Certo la casa si trovava in un luogo così isolato che nessuno avrebbe potuto sentire Adrian urlare ma qualcuno avrebbe potuto salvarlo. Due anni prima della sua morte straziante nel 2013 Adrian aveva confidato all'assistente sociale e ad un agente di polizia che suo padre l'aveva preso a calci l'aveva più volte colpito in testa e gli aveva dato pugni nello stomaco e che la sua matrigna continuava a tirargli le orecchie facendogli molto male. Aveva persino raccontato che i due lo chiudevano spesso nella sua stanza e non gli davano da mangiare. Ispezionando il corpo di Adrian però pare che né l'assistente sociale né il poliziotto furono riusciti a trovare segni fisici o prove degli abusi raccontati dal bambino perciò giustificarono il fatto di non essere intervenuti in suo soccorso per questo motivo. I servizi sociali però avevano ricevuto anche delle chiamate da vicini preoccupati per Adrian una persona aveva riferito di aver visto Eder picchiarlo e un'altra di averlo visto addirittura mangiare cibo nella spazzatura. Ebbene neanche a seguito di queste segnalazioni i servizi sociali riterrano opportuno portarlo via dalla casa del padre e della matrigna furono soltanto fissate delle visite domiciliari periodiche per controllare se fosse trattato bene durante una di queste visite Adrian disse all'assistente sociale che era stato costretto a dormire fuori al gelo e che siccome non gli era stato dato da mangiare era stato costretto a cercare il cibo dalla pattumiera le aveva anche detto che Michael e Eder lo avevano picchiato rinchiuso nell'armadio di notte ma sembra che l'assistente sociale neanche questa volta abbia preso troppo sul serio le sue dichiarazioni provate voi ad immaginare di vivere quest'incubo essere maltrattati picchiati ed abusati e nessuno vi crede nessuno vi aiuta e vi sentite persi sentite di non avere scampo non avere via d'uscita e di salvezza a me farebbe impazzire adesso figuriamoci se mi fosse successo da bambino dopo un paio di settimane dall'ultima visita poi la coppia pensò bene di comunicare i servizi sociali che si stavano trasferendo e perciò non avevano più bisogno dei loro controlli in pratica i servizi devono controllare che gli adulti trattino in modo consono dei bambini ma accettano un no non venite più tanto tra poco ce ne andremo come scusa per non controllare più ma questo veramente è il paese che vuole esportare la democrazia e il suo stile di vita il sogno americano e così fu il bambino fu lasciato in baglia dei suoi aguzini al processo il detective Stuart Letfield testimonò di essere rimasto scioccato dalla visione delle foto e dei video di Adrian e di essere rimasto particolarmente colpito quando aveva saputo che Heather aveva usato il taser su di lui per ben 15-20 secondi alla volta un tempo davvero lunghissimo immaginate di prendere la scossa e di rimanere folgorati per 15-20 secondi un'agonia Michael Jones 46 anni e Heather Jones 31 anni furono accusati di omicidio di primo grado alla fine entrambi si dichiararono colpevoli per evitare la pena di morte e furono condannati all'ergastolo con possibilità di chiedere la libertà condizionale dopo 25 anni adesso voglio dire ma a chi interessa qualcosa dell'infanzia di questi due scarti della società veramente ancora qualcuno avrebbe il coraggio di prendere le difese di costoro beh non me lo dite per favore non voglio neanche saperlo 25 anni le torture inflitte fino alla morte ad un bambino valgono solamente 25 anni di prigione senza parole non ci sono scusanti l'altra famiglia di Adrian la nonna Judy la sorella Kiki e la madre Diana erano presenti nell'aula 16 del tribunale distrettuale della contea di Wandot per ascoltare la sentenza erano presenti anche Jennifer Hovers la donna che aveva scoperto le foto di Heather la sorella di Adrian Kiki parlando direttamente con suo padre Michael raccontò di come fosse terrorizzata quando viveva con lui da bambina l'ex moglie di Adrian con grande dignità si limitò a dirgli hai fallito come padre hai scelto di uccidere la tua carne e il tuo stesso sangue illudendosi che queste parole potessero in qualche modo scalfirlo c'è però da dire che anche lei ha detto anche di sua figlia Kiki non era stata una madre perfetta le piaceva uscire e a volte quando si assentava spariva per giorni ma sicuramente restando con lei il bambino non sarebbe morto di fame e non avrebbe subito quelle torture indicibili nella sua tuta a reghe blu e bianche e pantofole arancioni Michael non si degnò neanche di guardare in faccia la nonna la sorella e la madre di Adrian mentre si rivolgevano alla corte il suo volto era privo di qualsiasi emozione trasmetteva soltanto pura malvagità Judy Conway la nonna chiese che fosse fatta un'indagine federale sul perché nessuno avesse aiutato il bambino mentre attraversava quasi un anno di inimmaginabile agonia prima di soccombere scrisse anche al governatore del Kansas Sam Brombeck per esprimere il suo sgumento ma lui non si degnò neanche di risponderle come se non fossimo già abbastanza inturbati c'è un altro fatto che quando venne alla luce sconvolse tutti oltre ai servizi sociali c'era un uomo che avrebbe potuto salvare la vita al piccolo Willie Flowers 58 anni lo zio di Michael che visse per un periodo nella casa di Kansas City con la famiglia l'uomo che assistette a diversi abusi sul bambino invece di denunciarli rimase in silenzio l'uomo non fu accusato di alcun crimine perché secondo la legge del Kansas non era obbligato a denunciare quanto stava accadendo secondo la legge del Kansas infatti solo operatori sanitari gli agenti delle forze dell'ordine gli assistenti sociali e gli insegnanti hanno l'obbligo di denunciare gli abusi sui bambini in pratica gli altri sono autorizzati a fregarsene altamente tutta questa gente assistenti sociali laureati per corrispondenza poliziotti da operetta parenti serpenti possibile debbano passarla liscia? ebbene sì non ho notizie di nessuno di loro che abbia pagato come complice dei due esseri per quello che aveva vissuto Adrian e ripeto tu vuoi esportare il tuo stile di vita? tienitelo la vita di Adrian è stata breve ed era immaginabile quanto possa aver sofferto per mano di coloro che avrebbero dovuto proteggerlo e curarlo con amore Adrian era un bambino pieno di vita che parlava sempre del suo amore per il football e sperava un giorno di diventare un bravo giocatore i pubblici ministeri che hanno lavorato al suo caso hanno detto che il suo crimine è stato uno dei più atroci che abbiano mai visto il procuratore Shirley Lodke ha dichiarato di non aver mai visto abusi del genere in 27 anni di carriera per oggi ci fermiamo qui vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo occhio a chi vi saluta sempre ciao ciao